Torna alla nostra rubrica di sanità Sportello Salute, curata da Paola Aristodemo con una novità. Inizia oggi infatti il nostro viaggio alla scoperta tra le realtà della nostra regione. Prima tappa, il poliambulatorio gestito dalla Caritas alla stazione Termini di Roma. Vediamo. Quello che vedete è un cartello con su scritto area sanitaria nelle principali lingue del mondo. Ci troviamo all'ingresso del poliambulatorio della Caritas in via Marsala a Roma. Da oltre 35 anni questo centro offre cura a emigrati e senza pista di mora. Qui con me c'è il dottor Salvatore Geraci, responsabile dell'area sanitaria della Caritas. Ma quali sono i principali servizi che offrite? Oltre 300 i volontari che lavorano qui. Sì, grazie veramente al lavoro di tutti questi volontari, medici, infermieri, farmacisti. Garantiamo essenzialmente l'assistenza di base per le persone in condizioni di marginalità sociale. Ma accanto all'assistenza di base c'è anche un servizio infermieristico, un servizio farmaceutico. Ma soprattutto l'ascolto, l'ascolto per dare dignità a queste persone che spesso sono invisibili, pur essendo presenti negli angoli delle strade. Ma ora ascoltiamo la voce dei volontari e dei pazienti. Le malattie di strada sono le nostre stesse malattie però aggravate dalla strada. Attualmente sono disoccupato e quindi non potendo pagare il ticket e farmaci vengo qui al poliambulatorio della Caritas. Sono infermera, mi chiamo Bisù. Una volta a settimana faccio volontariato qua. Sono stata aiutata nel 1996 da Caritas, quindi adesso voglio fare questo volontariato per aiutare chi ha bisogno. Assistenza per immigrati senza fissa dimora ma anche per tanti pensionati qui. Sì, certamente. La tipologia delle persone che vengono qui da noi è molto cambiata in questi tanti anni che lavoriamo. Se inizialmente erano soprattutto immigrati, adesso ci sono molti cosiddetti nuovi poveri. C'è persone che non riescono a stare al passo con le nuove esigenze, la nuova organizzazione. E per cui sono in qualche modo escluse anche dalla sanità. Le lunghe file d'attesa, i ticket, a volte per alcune persone rendono impossibile l'accesso ai servizi sanitari. All'interno del centro c'è anche un servizio farmaceutico? Sì, le medicine è un altro punto critico. Non tutti riescono ad acquistare le medicine, soprattutto quelle medicine che sono da banco, quindi non sono prescrivibili ma che comunque sono essenziali per alcune situazioni. Ecco, noi cerchiamo di garantire anche questo per quello che possiamo. Ed è importante donarli questi farmaci qui al poliambulatorio? Ogni giorno è possibile portare qua, poi c'è un gruppo di farmacisti che le valuterà, le organizzerà e le metterà nuovamente a disposizione. Ricordiamo che questo poliambulatorio è nato grazie a un'intuizione di Monsignor Luigi Di Liegro, il primo direttore della Caritas, l'uomo che è sempre stato accanto a chi soffre. Grazie al dottor Geraci e buon lavoro a tutti i volontari. Grazie a voi.